Se sei qui questa sera a raccogliere i consensi domenica sera è perché la gente ti ha visto sempre da un versante, interpretare sempre quel versante e di questi tempi che le magliette vengono cambiate nell'arco delle 24 ore e trovare un candidato che è sempre su un versante viene difficile. La mia storia politica è abbastanza coerente, le cose in cui credevo, i valori su cui ho cominciato a fare politica un quarto di secolo fa sono i miei valori oggi e credo che c'è anche un versante non solo politico ma di qualità dell'impegno civile da cittadino siciliano, da giornalista che ho provato a rappresentare, a praticare che è quello di fare un'attività di contrasto alle culture della mafia non generica, non letteraria, non virtuale ma anche facendo nomi e cognomi, perché in Sicilia fare nomi e cognomi serve a restituire un po' di verità e di conoscenza dei siciliani, un luogo di gente assai più libera di quanto hanno immaginato nelle loro costruzioni di ceto politico romano. Massimo Fundarò, l'amico sicuro su questo versante, parlando poc'anzi di versante? Massimo è un compagno di tante battaglie, è un dirigente politico di antica razza, di antica militanza e di antica competenza, in questo senso è una sicurezza. Ci hai puntato? Non bisogna puntarci, siamo insieme, lo siamo stati in tante battaglie, siamo insieme perché ci chiediamo insieme ciascuno di noi punta sull'altro, ciascuno di noi offre all'altro qualcosa in più da fare. Votate liberi, non date retta a chi vi chiede di protestare, di rassegnarvi o di rastenervi votate liberi, se sarete liberi penso che la Sicilia sarà migliore il 6 novembre.